Luca Spadoni, candidato per SEL a lezioni politiche, quali sono i principali punti del vostro programma? Il nostro programma si basa essenzialmente sul lavoro, dare lavoro, lotta al precariato, possibilità che le giovani generazioni possano contare anche su assetti contrattuali e stabili che gli garantiscono un futuro. In questo senso aumentare il carico fiscale per il lavoro precario e diminuirlo per il lavoro a tempo indeterminato. Interventi pubblici che consentano di svincolare risorse, anche ad esempio allentando i freni del patto di stabilità, in modo che attraverso l'intervento pubblico si dia sviluppo all'economia, all'economia ecosostenibile, in modo da consentire al nostro Paese di uscire da una crisi tremenda. A livello politico si parla dopo le elezioni di un rischio di un accordo con Monti oppure addirittura un accordo con Ingroia Sinistra. Le vostre opinioni su questo? Le nostre opinioni sono che c'è possibilità di dare un governo stabile a questo Paese votando e dando forza al centro-sinistra e alle forze di sinistra, cioè Sinistra, Ecologia e Libertà, all'interno della coalizione. Il resto sono tutte operazioni e messaggi mediatici che forse fanno fare un po' di ascolto ma sicuramente non aiutano il nostro Paese.